Saluto a tutti, eccoci, questo colpo è un nuovo patrimonio, qui siamo in un luogo, ho saputo che la vigna sono secoli e secoli, stasera ho parlato appunto di la storia di vigna e di oggi, ma anche della bene di questa vigna e di questi vigagnoli corsi. Allora, ben inteso, per parlare di la storia di vigna, abbiamo invitato un vigagnolo, un'arena, siamo in un patrimonio, un saluto, ci siamo chiamati dopo, ci siamo 50 anni. Un'a cinquantina l'anno. E allora, boh. Prova sulle capelli. Allora, qui prima di parlare di patrimonio, a vigna, un'amica principiata rimane, eh? Qui in patrimonio, sai, gli enti qui sono vignaioli, come astro, nasce vignaiolo, pur si ne ha dovuto, un'amica va sul mistero, ogni zittello di patrimonio ha fatto almeno una volta vendemmie in famiglia, nei vicini, in patrimonio. Anche le case sono state fatte per concedere la vinificazione, perché sotto le case, l'abitudine, c'era sempre una cantina, c'era palmento, c'era la presa, c'era i bisogni, c'erano i bisogni nei tempi, dai, con i travi e tutto. Dunque, in patrimonio, la vigna c'è sempre stata. Aumento lato, anche la, è andata un po' qui male, perché ne parleremo forse dopo, quando ci sono raggiunti i Beinegri, l'ant'agosto, ma in patrimonio, la vigna c'è stata, c'è sempre, e poi c'è una bella generazione che giugna qua, che penso che per qualche anno la vigna ci sarà sempre. Ma anche in Corsica, la vigna è scalata, parliamo di Corsica, è scalata su milla anni. La vigna, prima di andare nel tuo continente, è passata bene a Corsica. E poi c'è stato buono, e bruva c'è stata in Aleria, ma c'è stata anche avanti a Aleria. All'epoca preistorica? C'è sempre stata la vigna in Corsica, c'è sempre stata, ma dopo, se tu vuoi, quando l'uomo ha cominciato a campare, gli ho trovato la vigna, si può dire che si può regolare ai romani a fare così, ma c'era anche avanti la vigna. Ma non era mica per fare un mistero, per campare. Infatti non ero mica i vignaiori, erano agricoltori. Erano agricoltori e facciano tutto, come i vignaiori in patrimonio avevano i suoi giardini, avevano i suoi borgi, facciano tutto. Campare in un paese, nemmeno solamente, oggi siamo tutti a Pule, essendo una sola speculazione, un solo mistero. Ma non so, i vecchi, facciano tutto, facciano il suo giardino, facciano le sue riserve Bellinguerno, facciano le galline, capre, bacche, c'era tutto. C'era tutto. C'era i porchi, porchi, avevano tutto il campano, quasi in ortasia. Noi sono venuti. Noi sono venuti. Allora, ma questa vigna, tutti i luoghi quando si va, ci dicono, qui c'era la vigna. Infatti non c'è mai stata un'economia della vigna, si può dire una vera economia della vigna in Corsica. Stai dell'economia della vigna. Vedi a nuvino, c'era ai venditi di vino, noi da Ampivecchia. C'era, noi da Ampivecchia, innanzi c'era anche avanti, perché quando tu vedi che pure nei pareti paesi di Corsica ci sono i locali che si chiamano Balmento a fare, ci sono i paesi che chiamano Balmento. Balmento viene direttamente la vigna, dove passano, passano volerli, nei pareti luoghi, passano a fare così, che all'origine volerli una vigna giovane a fare così. Dunque, c'è sempre stata la vigna, ma da qui a fanno un solo, un solo mistero ben urlato a famiglia, no, è giunta l'opo. Dunque, conto, è bene, ma c'era conto che gli altri vendivano vino nei tempi? Nel tempo, il patrimonio, io quando ero zedello, poi non so, c'erano quelle vie di vino in Bastia, c'erano i concorsi dove io avevo sempre i titoli, un corcio che c'erano, che avevo avuto i milagri in Bastia, c'erano le vie in Bastia, è importante. Mandavano vino, dando quelle colonie, mandavano vino a divorerli della Corsica. Boh, mica solo qua, ma con Enzo, nel tempo di Romano, partivano vino, sai che il più bel esempio, quando, a fine di conto, era una maniera di riconoscere la qualità di un vino, quando li facevano un mercato in Firenze, li facevano a fare un giro il capicorso e poi facevano un assaggio in Bastia, chiamavano i vino navievole, navievole ricchi, quelli che avevano tenuto un colpo, non si bastano mica, non si bastano mica, non partivano per Roma, partivano per ciò che erano ancora in Italia, ma Roma, Genova, tutto a fare così. E non gli pievano i soceppi particolari? C'erano, c'erano, ad esempio, noi in patrimonio, il caccarello, il cattagliolo, come lo chiamano a noi, l'ho mai avuto, perché i vecchi, non avevano mica istituti di ricerca, ma erano sempre l'altro terreno. Sabivano che la dara? Sabivano i rifletti, loro campavano in questo tempo, sabivano che si mettevano in tal luogo, avevano un senso di ciò che chiamano oggi, in francese, le terroir, avevano un senso, sabivano che qui ci puoi mettere una luce, e mica altraffare. E dopo ci sono stati vecchi vidini così, che erano spariti, e dopo li hanno ritrovi, cazzo è un nuovo travaglio, che si fa, che si chiamava Servi, che c'è qua in San Giuliano, e cazzo è anche quelli che hanno ritrovi i nostri vecchi vidini e chi voglia facciano furore dappertutto. Noi tu vai in continente, tu vai in America, i nostri vidini sono riconosciuti di qualità. E sono ceppi nostri. Un cino di troie che qui, tipo l'esempio, il vermentino, ma un esempio come il bianco centino, le troie che in Corsica. D'accordo. E se tu vuole hanno tenuto ma, siamo andati all'ora di 60, andavano male per questi ceppi? Questo è andato male, perché ci hanno fatto una viticoltura e non voglio dire la colpa a nessuno. Quelli che sono giunti dai, quelli che sono giunti d'Africa, nel nord, c'erano niente, c'erano scocconi, ma c'erano niente semplice, normale, che sono stati anche arruinati. Non c'è mica credere che tutti i bianchi erano scocconi, c'erano niente. Ma loro hanno letto i bianchi, e facciano vino con i carignano, a fare così, facciano vino con l'uva certe volte. Ma allora, per rimanere all'uso antico, come tenivano il vino? Perché il vino si può bastare, e c'erano le mani di tenere vino? Avevano le volte, tanto non c'erano le volte. Sai che in Bastia c'era un certo cuneo, il papo mi diceva, che gli fabbricavano le volte corse. E invece non entra in cantina? E facciamo nelle cantine, ma con il legno corso, con il castagno. Con il castagno. Io ne avevo la cantina qua su, e gli conosciuto. Allora non erano mica onde, e onde non erano mica così allargate, erano tavole di rite, sai? E c'erano queste botte corse, qui i rossi diarci in ferro così, ma erano fatti con il castagno. E oggi, in certe regioni di Francia, grande appellazione, arrivano il castagno. E non manca la ricorsa che facevano? Manca la ricorsa. Cuneo in Bastia c'era un buttaio. Infatti c'erano tutti i misteri che sono spariti quando erano spariti a questa maniera di Tavaia. perché dopo sono aggiunti le altre materie per fare vino, aggiunti l'inox, aggiunti l'aggimento. Ora buttiamo il nuovo legno, ma il legno, in corso, che non se ne fabbricate più, bene lo conteniamo. Il saperfaccio è perso. Il saperfaccio è perso. Allora, giusto appunto, per parlare di saperfaccio, ma andremo da un sartinese, nei pochi anni fa abbiamo fatto un sconto di nati gordi, come si faceva la vigna all'uso antico. Siamo andati, giusto appunto, nei pochi anni fa, siamo andati in sartè a bere la vigna di Paolo Lucchino e il bieretto per lo vendiamo a noi tempi. In sartè c'erano sempre i vigni e sartè è una regione di vigne e di vigne di buona qualità. Ogni vigne c'erano il gazzetto. A Oswa era un gazzetto di Staglione Trento ma in principio era una cantina. Staglione è piuttosto un paese che era lì. Sicuramente c'erano la campagna quindi staglione in campagna. Per esempio gli apriamo a casa di mezzini, staglione la vigna ma staglione in campagna e staglione la vigna, animali, vaccini, pecore, l'orto, ben sicuro, faccio l'orto perché ogni campagnale si apriano le cose e l'orto. in terra trattano i cimuli e cacciano l'arba. E cacciano l'orto e cacciano l'arba. E cacciano l'orto e c'era la ravinga. La ravinga è una gravità. Dopo mettono i maddola i bastardi che dipendono in tempo e luogo e quando è della stagione mi parla di marzo li mettono in terra. E dopo li sentono con uizzi buoni sono arati e qui per esempio c'è tutto l'uizzi di qualità. Qui per esempio è una vigna che è stata piantata all'antica. All'antica si è pianta fatta con il ciappone e con il ciawanga. Volta a terra come una lenza d'orto è fuori misura a terra da sotto con l'antica è un calcio che è andato all'antica con una forchetta come una forchetta tre mazzetti tre mazzetti tre puttatoia c'è tre puttatoia in francese si chiama tagliare un gobelè voilà questa è qui per il resto si è palissimo di più la nostra tradizione non è pala non è pala solo quando abbiamo piantato il bastardo mettiamo il palo e quando non si tiene c'è il palo che ritirà perchè entra in stronti mica il tempo in me si passai agli proprietari cercai solo i miei ruoli che erano pagati hai ornata e tani un litro di vino facciano otto ore di travato cominciavano settore di mani insieme a undici ore e ripetano un'ora insieme a cinque ore si facciano se ornata ma è piccole vigne è pagatino e io so quando io conoscivo che c'era una cantetta di Ceremo come se c'era una piccola vigna che aveva un po' di parzioni ma se sei i grossi vigne ci avevano pagati e i grossi vigne c'era la coda per farci scrivere ci avevano per farci scrivere per durare i quindicenti di orna un litro di vino tutto il vino in mei ruoli c'era la sua ornata più un litro di vino era la tradizione così o col tetto o un ronchetto o col tetto un po' contorto così in una punta altrimenti col tetto dopo ci sono venuti i seccatori a fare qui ma beveve più dopo ma in principio era col tetto un ronchetto patata qui nei sartinesi gli uvizi che notiamo sono uvizi buoni che uvizi che danno buon vino con un grado in particolare il succhettagliolo sciaccarello che quando vedete sotto i denti succhetteggia il barber rosso l'armentino l'armentino il carcaggiolo il zanzò e si bolleggiano e si bolleggiano tutto si bolleggiano tutto e i vigni non sono mica picchiettati? i vigni non sono mica picchiettati l'anziana vigna fatta questa qui tutto è bollegato tutte le qualità sono bollegate non c'è mica un cannetto non c'è che il barber rosso un cannetto non c'è che ciò che tagliolo tutto è bollato e il fatto che la minera che uvino abbia una migliore so che casca casca si bolleggia tutto andate pure si mettevano i gattini i gattini sono i comporti in legno con i due manecchi e che erano liati con i gordi e dopo c'era un roccio per tenere pastiglia e un bosanico si rivela a portarlo e dice in India ogni 20 miliardi e poi passare ogni mulattere tagliare i suoi squadra tagliare sei 20 miliardi quindi non andiamo a cercare l'unico ma non si tratta tre tre cuffie qui e tre e sei andiamo a cercare e un affare e non ci rivela che passare no una figlia con una mica innimita ci rivela ma ci rivela i brionati il patrono ci rivela e dopo sovente si c'era morua si pestaia perché i luoghi non si perdono i valuti e ci rivela quali erano? Erano le mulatterie che stavano i suoi muli che andavano da una giornata di nuova e da tra l'altra. Pagati, ben sicuro, era il suo mestiere. C'erano le mulatterie che venivano i miei rossi? C'erano le mulatterie che venivano i miei rossi. C'erano di noi certi troppettari di vigni che stavano una mula di soio, ma facendo sempre la pelle e mulatterie, tanto venivano i miei rossi. Allora era un'eternità in nene. Fatti qui, vediamo come gioca. Quando su entri in cantine lontano, calcicano sopra la piazza e calcicano dentro il radicolo. Il radicolo, vado a spiegare ciò che è, sono cascette in legno in forma quasi d'un butto, largo sotto. Mettivano l'uovo a Trento, l'entrano. Qui c'erano la calcicata, si scalzano e guadavano a Trento e ballavano in Trento e frangavano. Tutto va l'uovo a Trento un capitetto, il giusto di l'uovo, tutto va a Trento un capitetto. Ma vado a giocare in cantina, per rimettere il nipote, perché c'erano i miei muri. C'erano i miei piccoli botticetti. Quando mi tieni due o tre anni in basso. E dopo sbagliare trenta volte, a qualche volta. Con l'uovo potesse. Allora, qui l'ho passato? Penso che non si può più arrivare a fare così. L'uovo passato a sessant'anni, perché quest'anno avevo sessant'anni. L'ho conosciuto io l'uovo passato. Io mi ricordo perciò, quando ero zedelo, quando mi portava allo liceo. Tanto stavamo tutta la settimana a Giosia. Prima di portarmi allo liceo, parlavo a lui che era di vino. Ciò che gli chiamano oggi i waravans. Erano le cantine. Un biglietto vino. Un pastizio giunto l'uovo. E giunto l'uovo. Dopo ho cambiato. Ma vent'anni fa, quando erano zedelo, mi mandavo un bottiglio di vino e passavo per un briacone. Vabbè che la storia si arriva. E oggi i giorni di più in più bevano il vino, vanno verso la natura, cercano dei vini più naturali. Ma c'è bene pochi, in intesa. Con moderazione, quando si può. Allora, ora ripartiamo dunque, scalano i veineri in Corsica. Allora, il stato della vigna tanto, come erano Corsica? C'erano le piccole appellazioni che ci trovavano. Non c'erano anche appellazioni, ma c'erano le piccole regioni. C'erano il patrimonio, c'erano Capigorso, c'era Valagna, c'era l'Aiacino. Altro c'era la regione Alleria, Penuccia. Ma non c'erano mica 6 vigne altronde. C'erano lo sartinese, lo sartinese ce n'erano barecchie vigne. In Sartè c'erano le rosse cantine. Ancora forse più importanti che il patrimonio, c'erano una rossa regione di produzione. Ma non era mica un'economia produttiva, si può dire, no? No, vendivano il vino, vendivano localmente e poi un po' partivano in continente e nelle colonie. Ma non erano mica aiutati venite? Ah no, tanto, tanto... Aiuto se ne parlava? Prima, affari? No, le prime sono giunte quando hanno cominciato ad aiutare i pei negri, aiutare i pei negri a colpi di soli per smacchiare e per pure piantare vigne. Quando i nostri vecchi erano quei uoi e quei muli, quei uoi hanno fatto i vildosieri, i trattori, hanno smacchiato, hanno fatto... Hanno giunto un'altra vita di cultura che in Corsica non si conosceva mica. Non solo in Corsica, in continente è stato il stesso affare. Oggi è quello che lavora oggi con voi, diventa venuto, tutto il mondo faccia il fiorelello, ma tanto che tutto il mondo lavorava così. Tutto il mondo trattava di spogli, c'erano le sue buzzette per fare l'acqua celeste, c'erano le sue casette nelle vigne. Questi affari facciano perdere il nostro patrimonio. Ma se tu vuoi, non c'era mica una riflessione a un livello politico in Corsica di sviluppare i vigne o altri affari? Non c'era manco un liceo agricolo. Come vuoi sviluppare una speculazione senza legge una formazione? Non c'era manco un liceo agricolo, non c'era mica un liceo per l'ostelleria, non c'era nulla. Come l'andava andava? Come l'andava andava. Dunque hanno sviluppato la vigna perché c'erano a casa i pei neri che erano nonti all'Africa del nord, l'hanno messo in Corsica che poi l'hanno messo altrove. Ma l'hanno messo in un altro? L'hanno messo in un altro, ma l'hanno messo qui e qui c'è stata l'Irotta l'hanno messo in un dei vigne che noi non conosciamo mica, hanno messo la nostra viticoltura e la viticoltura, sai, Dandu ha messo il vino e l'hanno messo in plastica, non si mette nemmeno a città i nomi, ma l'hanno messo in capo, l'hanno messo in mente. E i nostri paesani è stata finita. Bapu ha detto che voglio più che puoi fare il suo mestiere, ha restato il vostro mestiere. Allora, giusto appunto, Dandu, c'è una conscienza che si sveglia, si può dire. Ma come si passa? Poi i bignaglioli corsi? Dandu, io ho piaciuto che ti abbia un esempio. Penso che sia un po' il simbolo di questa cosa. Io nel 1975 ho avuto un evento all'aria di una ventina d'anni. Sono come te, sono passato per la facoltà di inizio, ero qua là, ero già qua a mia moglie, non erano qua a mia moglie, ma eravamo già insieme, mi ha detto, se tu mi danni i carri un mese di vita, io ho volto in costa. Bapu mi ha parlato durante tre mesi, mi sono sacrificato quando andato in scuola, mi è nato sempre la bella regalina. E tu, un bui anno più, un bui anno più, ho detto qui, sai cosa che mi diceva, con tutto il rispetto che avevo per i spazzini di bastia, io è meglio che tu sia un spazzino di bastia, che camperei meglio con un bignagliolo. Il pastore di bignagliolo era venito. L'erano più sentire parlare, l'era recitato la società, l'era come ho fatto di parlare a corso, appena ti ho piaciuto, quando parlavamo corso, il professor, mica tutti, i paesanacci, i paesanacci. E oggi aveva rotto la gira, oggi la lingua corso è quasi a loro doveva essere riconosciuta. Dunque per arrivare alla viticoltura, in 1975 ho detto che siamo voltati, c'erano già i bignaglioli qui in patrimonio presenti che hanno fatto un certo trovato, io penso a Vittuolo Bernardi che aveva ottenuto l'appelazione di patrimonio nel 68, c'era Domenico Gentile che erano i gusti che avevano già fatto. Noi siamo giunti loro, poi c'è stata la generazione di Ivereccia, tutti questi gusti, e siamo perduti, non sapevamo mica ciò che noi amavamo, ma sappiamo ciò che non c'erano più a fare, la viticoltura che faccia arrattare la mercantina. E siamo riportati i gusti, in 1980 lui, grazie all'appoglio di Edith Cresson, che era Ministro, abbiamo formato, il primo Presidente era stato Pierlui Figai, il patrimonio, era Presidente dell'Office Agricolio. Tanto la gente in ricerca dove si va, e da questi, tutto è riportato, siamo andati a ricerca i nostri vecchi vidini, la maniera di lavorare, i studi non t'ha idea e tutto, e questi abbiamo rilanciato, abbiamo rilanciato la viticoltura, oggi la viticoltura è un simbolo che riesce a dare corsi, come lui. È male perché si è campato, è male quando c'è il sviluppo, non c'è la boia? Non c'è la boia? No, 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 se t'andavano in certi uomini, t'andavano anche a giudicoltura come lui, ai giovani corsi non davano nulla, non davano nulla tanto. Davano tutto un cera per i beii negri, e lui avevano gioccolato, dopo avevano fatto la mandatetta, vieno a fare così, l'hanno avuto anche i corsi dopo questi, ma quelli che lavoravamo più non avevano nulla. Favamo mica il processo dei beii negri, ve l'ho inteso? Non faccio mica il processo, faccio un processo di una politica all'epoca, come ti ho detto prima, nei beii negri c'erano i entri e c'erano gli scocconi, come in Corsica, c'erano anche gli scocconi i corsi. C'era una politica che volia così? C'era una politica che ci voleva fare una rossa produzione, ci voleva aggiungere le 20 mezzan per arrangiare i vini di Uolong Dock, tanto che c'erano l'acqua di Uolong Dock, e la concentrazione, il zucchero, quindi io non ho i vatteli in faccia di Corsica, che ha anche il zucchero, infine, nemmeno che avete l'affare, Roberto Gianni? Non parliamo ancora. Non parliamo ancora, e oggi siamo venuti a fare Corsica, una regione esemplare per la piaviticoltura, e piaviticoltura più rispettosa dell'ambiente. Allora, appunto, quando parliamo oggi, siamo rammutati di Sarri d'Orcino, qui c'è un bignaiolo che conosceva, Albertini, c'è una vecchia famiglia. C'è chi sarebbe anche un vigneto più alto di Corsica. Io più alto di Corsica. Allora, quando andiamo a Sarri d'Orcino, abbiamo un gluteo al seto, e abbiamo come lo si vende, mentre c'è qua là. un uomo al seto da presso a me venne da un luogo, l'Alzi, c'erano qui sotto qualche Alzi, e dunque un uomo venne da qui. qui all'origine era la cantina, dopo è stato trovato un appartamento da sopra, ma all'origine l'uva entrìa in su, era calcicata ai piedi, e fava direttamente in delle volte sotto. L'ensemble era una cantina, e avevano fatto un libretto di una cantina moderna all'epoca. Il seto ha cominciato innanzo al 1800, perché nel 1800 avevamo trovato l'archivio di Vassia, che la cantina aveva bruciato. Si vuole dire che c'erano gli armi e le vigne, perché non favano mica una cantina, e le vigne erano gli apposti. L'Albertino le faremo tutte da un uomo, sicuramente. C'erano tre fratelli Albertino, uno era fatto verso il Venzolasco, uno in Cinarca e l'altro non mi ricordo più, e quello che era fatto qui aveva visto una regione, e aveva detto una regione di Paraguigna, la Lio e la Mandore. A parte da qui la famiglia Albertino è sempre stato il regomento di Argentina fino a oggi. Faccio la cinquesima generazione, dopo l'Albertino Pasquale, io avevo posto la vigna, dopo Napoleone, dopo il mio padre e mio zio, e ora sono i miei cittadini, sei generazioni. Dico sempre durante le guerre, non c'erano più uomini, le sue donne, in cui sono i cittadini, che favano vendemmi, che favano uvini come dei Puglino, ma non hanno mai restato una volta di fare una vendemmia. Allora qui siamo le vigne più alte di corse, siamo a 500 metri, a cantina è a 400, e qui siamo davanti, davanti a un barmentino di tutta bellezza. Fiamo bianchi, parfumati, fini. Un barmentino è, da presso a me, un re di lua bianca. Se li chiamano noi Malvasia? Si chiamano Malvasia, si chiamano incontenenti, si chiamano Roll, di nuovo. Dopo c'è qualche differenza di clone, ma è il barmentino qua. L'ora che noi siamo qui, il principale è Ushakadid, dopo un po' di Nieluccio, dopo abbiamo un altro uva, il rosso là, c'è il barmentino, abbiamo posto due età di bianco gentile, e dopo c'è un poco, ma poco a fare, un poco di Grenache, un poco di Zensoum, poco a fare, un più e più sempre, sempre di biancozze. per vendemmiare, abbiamo un'equipa di, 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 di miglioratore, e poi, una piccola macina, tirata, portata, per un trattore, per gli uvi, per gli uvi, per gli uvi, entre, gli uvi, e gli uvi, l'uvi, la macina, una piccola macchina, tutta la mano. Sono paesane, sono tutti paesani, sono tutti gli enti di, di, di paesi, sari, ambieni, cannelli, caseglioli. Il risultato è buono, da uova famosa, poca quantità, ma assai di qualità. Vendiamo particolari ristoratori che fanno il prodotto di giallo di Boucher Reis e si conosce di più in più. Sì, c'è una vendita. La tendenza cresce, sì. Qui siamo tutti gli anni, non abbiamo più rosè e bianco rapidamente nel stadione, il stock di rosso è caro, dunque siamo qui, avevamo il 52 ettari di vigne e pensiamo di fare di nuovo. Travalliamo sempre in cui l'uva corsa, sciaccadetto, gnelluccio, parmentino, avremmo posto un po' di bianco gentile, dunque partendo una tipicità di un prodotto. e dopo proviamo a lavorare il meglio possibile, facendo attenzione assai all'igiene di strumenti, di lavoro, e a fare il meglio possibile un prodotto identitore. E conoscendo i vini, i corsi conoscendo vino, che ne pensate voi? I corsi, di più in più, conoscivano poco, si interessavano poco innanzi ai vini, i vini corsi. Un momento all'altro compravo Bordeaux, quando riceviva che ci sia in casa, cacciava una botella di Bordeaux. Ora no, ora i corsi hanno piaciuto coscienza dei prodotti che sono fatti qui, e ne sono fatti, di cacciare una buona botella di vino corsi, quando riceviva, tu sai. Un cambiamento di noi si è fatto quando ero cittadino, quando si parlava, parliamo di vendemmia, un secondo c'è anche un zoom per portare l'uva, qua c'è un trattore, c'è una macchina vendemmia, e c'è un affanente. E c'è trenta o quarant'anni, mi avevano detto, un giorno dov'avere così qua. Mi avevano detto, no, io chissà se è storia. E conto, dunque si va bene che i corsi e noi sono capace di fare qualcosa. E la vedicoltura è l'esempio di che in corsi si può campare con il suo lavoro. Sai, Piergian, e ho detto a quei amici o contenenti, bignaioli come me, noi lavoriamo se è militare, proviamo a vivere il nostro lavoro se è militare, dire, militare, di lì si può campare senza pensione, senza aiuti, senza così, senza trovare un uomo pulito come fatto con una piazza di cantoniero, di ruone, di pulito. L'antichità vogliano così, eh? Si può campare, è molto l'esempio, e oggi è ciò che mi faceva più piacere a me, a dirico franca, di dire, per cominciare i movioli, ma tutta la gioventù, perché non c'è un patrimonio, manca altro, beh, quando abbiamo questi giorni che avevano i vostri busti in continente e che sono portati, penso a Giuseppe Anuncio, che avevano busti di caboni, che sono portati perché? Perché sanno che c'è qualcosa qui da fare, da trasmettere, perché noi siamo già, beh, a Giuseppe Santani, ma siamo già nell'epoca della trasmissione, mica solo trasmette i suoi, questo è una strada, di trasmettere il nostro sapere, di trasmettere la nostra memoria, la nostra storia, e questa è la cosa più ricca che lo si possa fare. Prima parla di Giuseppe, tu è barato davanti al patrimonio, perché hai anche il bianco, ma non mi conviene il patrimonio. Il patrimonio fa un po' più di 500 ettari, ma ciò che ti è bello, in patrimonio c'è 500 ettari, ma c'è più di 30 vigneiure. E poi c'è la stesa qui di la valle a Ritanoia. C'è, c'è un luogo magico. Sì, ma un po' il governo, non ti chiede niente di me, che tu devi stare in questa regione qui, e io dico, franca, perché guarda di questo lato qui, che devi guarda dove è Foriano o Viguria, e quella è un bel che è casa, non c'è più nulla. E siamo nudi, è tofo? No, quello è calcario. Calcario? Calcario, ecco, siamo tutti andati calcari, quei fossili che chiamano. E sotto la terra, infatti, c'è poca terra? No, qui sotto c'è anche, ci sono i petri, ma c'è la terra, sono petri bianche, ma sotto c'è a terrenato un bel e mica, come le so belle vigne, non soffrono mica così ecco. E l'umidità ricorda? C'è l'umidità e poi ci sono i sacchi d'acqua sotto, sai, non calcario, così, che non soffrono mai così ecco. E la vigna è buona, e la vigna è già trovata, non c'è mica più a fare, certi vogliono mettere un gatto a gatto, ma quindi noi, un gatto a gatto, Quanto siete qui, i bignaglioli? Siamo 33, 33, andiamo a 35, perché c'è altri che si installano, c'è altri che sono installati, e comunque non c'è un bignolo di 5 cent'ettere, e comunque è un bel affare. Un mese un ettere a bere bignaglioli, quanto è più o meno? Beh, da 8 ettere a... Boh, c'è due rosse esploitazioni che hanno più di una centina l'ettere, e l'altro va da 8 ettere a 40, a 40 ettere, ma la media è di 10 a 15 ettere. E si gampa con 15 ettere? Si gampa, si gampa abbastanza bene, si gampa già ai 6 seri, capito che c'è la moise, non c'è mica questa, ne ho mette in Corsica, c'è la sorte, già andata in continente, già andata a Furestero, già andata per tutto, ma si buca un po' bene. Allora, perché in Sardegna le cooperative biagliano e qui in Corsica non è mai andata, la Furestero non è mai andata. La cooperativa c'è qualcuno che biaglia un po' qua, perché in Corsica siamo un po' così mulattini forse più che l'altro, siamo un po' individualisti, avevamo sempre un po' e che è una bella cosa, non è mica un difetto, da avere un ego un po' più alto che l'altro. Ognuno per sé, perché c'è la storia della famiglia, c'è un nome di vende, più che in destra regione se tu vuoi l'unione si faceva più facilmente che noi perché noi c'è una storia della famiglia, c'è un amore della famiglia, c'è un amore di esodere, noi a Dera qui non è considerato come un mezzo di traguagliato, un bel di famiglia. Sai che quando si vende un bel di famiglia i corsi non lo rendono neanche a quell'interno. Una lascita. Una lascita, una lascita, ma per trasmettere si lascia. Ma vende una d'aria gli è come intera due volte un vecchio. Se tutto il mondo era così forse non c'erano non c'erano tanti problemi. Soltiamo appena ai patrimoni, per parlare appena di ceppi oggi, perché penso che c'erano e c'erano e c'erano e c'erano diversi. Come ti diceva prima, a scelte le hai fatte come? Le abbiamo fatte a bepia di ciò che si chiama Osivamo di un centro di ricerca di viticoltura. Chi è in San Giuliano? Oggi si chiama Osirvina, si chiama Osivamo e il presidente Giuseppe Anucci è un coso pubblico ed è pubblico con l'aiuto dell'Assemblea di Corsa che ha il Stato e di ecotizzazione e di ecotizzazione. Ma che hanno fatto Osivamo? Soprattutto in onda, sono andato a ricerca di nostri vecchi vitigni e così abbiamo ritrovato con gli Ancocentini, abbiamo ritrovato Carcaio, abbiamo ritrovato Minustella, abbiamo giovanito Unie Luce, abbiamo giovanito un Vermentino, perché erano in fine di percorso, in fine di vita questi vitigni, erano, dicono, oh, le seppache corse ce ne esiste nemmeno pa'. Dunque, l'antigione l'ha dato 80, quando l'ha dato 80 una trentina d'anni era un dispetto, era un insulto più che un dispetto e dunque si morì per tutti così e oggi, oggi, in ogni regione, ogni regione di Corsica c'è unicamente vitigni, appartenente a Corsica che c'è forse altri vitigni, altrò non c'è vitigni. Dunque, hai dovuto la scelta pieve per pieve, regione per regione. Sono andati a cercare le vecchie vigne e le vigne abbandonate, hanno trovato le vecchie vitigni e dopo ogni regione, ma questa è l'appelazione d'origine, ti dice, Simo, no, se ho ricorso, i vigneioli che hanno scelto un patrimonio di Saraonie e Lucio, un vermentino e basta. Altrò, nell'Aiacino, Sartinezio, c'è il Caccarello, c'è un vermentino, c'è gli altri vitigni, c'è la barba rossa in Sartè, in Aiaccio, ma qui ogni vigneiolo è stato un maestro che ha la scelta e usa bene. Così non si può dita la pietra a nessuno. E dopo ciò riaffa vino. E dopo ciò riaffa vino, ciò riaffa vino, siamo stati aiutati per la creazione delle cantine, le giovani, l'Assemblea dei Corsi ha aiutato, sono stati aiutati e l'Europa di noi ha aiutato, ma il risultato è qui, il risultato è qui, c'è un'economia performante, c'è una gioventù che va nella reddita e questo è il più importante. Ma come è andata da calcicare come nemmo viste un sartè a oggi il modernismo che è in una cantina? Come sta mutazione, come l'hai fatto? Questo cambiamento come si è fatto? Si è fatto perché l'uomo è intelligente, si è abituato a tutto e nella vita se tu vuoi ciò sempre va a marchare in avanti, ciò a guardare da noi così bene, ma ciò a guardare sempre in avanti. Sai, un po' è mica a campare, ciò a confondere la tradizione e il folklore. Il folklore è perché non c'è più nulla, la tradizione è quando c'è qualcosa che tu puoi lagare ai tuoi violi e campare con il tuo lavoro. Perché se tu è buono fare i ghiacchiari ma se tu non c'hai mica a mangiare i tuoi violi la tradizione non vale tanto a fare. queste nuove tecniche si andate a cercarle in qualche luogo e vanno imparate? Siamo imparate, siamo andati a 24 anni sono portati a fare i studi per imparare a benificare, a giocare in Corsica, in Corsica, in Corsica, in Corsica, ha girato assai e poi il scambio con le altre regioni di Francia, il scambio è importante. Sai, non c'è mica pure il cuore non c'è stesso in Corsica, c'è la presa, non c'è solo a livello nazionale ma c'è la presa con il Mediterraneo non c'è l'altra parte dei rivoli del Mediterraneo c'è la presa non c'è stacchiosi non c'è perché quando si usa queste corsica quando tu voli hai ancora più coscienza che hai un valore terribile qui che hai una ricchezza che basta l'abbiamo usata bene la ricchezza c'è la razza si emana emana e ha volontà di lavorare. a questo punto questi cambiamenti sono scalati quelle macchine a Bindimia allora ci siamo dunque siamo mutati in Aliria dove Juan Pedro Succi giusto appunto che è lui a comprare poche macchine e usare la bindimia non c'è gente la bindimia se tu vuoi è quella che ha cambiato tutto il sistema di lavorare la vigna perché inanzo se tu ti ricordi le vigne erano asse lui era più vicino ad era ma erano un gobelè erano tonde allora che la bindimia non può capire lui sia la vigna e tonda dunque il sistema che abbiamo messo in marcia è questo qui se tu vai colpe divinamente il virus perché la macchina può passare sotto e che tu sia al minimo prima vila 70 di maniera che lui si trova la struttura qui che è 60 70 se tu fai lì e in die corsa che sono travaliato la macchina non sono più tagliate non sono tagliate non sono tagliate perché la macchina possa prendere lui c'è un fil di vero che e c'è due vaghette che partono da un piede che è un piede centrale che partono anche la diritta dove tu lasci le mazzette che non ha l'uva dunque tutti gli anni tagli qui lasci le mazzette e l'uva adesso sempre a struttura qui è sicuro che non costava nulla non costava che a maniera tagliata che era un piano ora quando tu peghi questa vigna fai che hai qui uno tre quattro vili e picchetti che sono a due metri pinti due metri pinti perché c'è la attana la vigna se tu peghi le mazzette che sono sottanute da sti ui vili uno aperto uno all'altro se la vigna se così il brutto niente non mica direttamente sono più difficili allora che così c'è più travaglio ma è più facile a travagliarla cosa che costa più caro è di mettere un piatto perché niente non non mica tutti sti vili tutti sti picchetti non non è nulla che la vigna che era un piano che fegge altro e prime macchine sbattolavano i gaspi ma male e macchine moderne sbattolavano più i gaspi erano le vibrazioni che scolano so che faccia che la gaspa non bucia manco veglia che manca manca una voglia di non mica tocca la gaspa che tocca ma passano tre mesi due bastoni che vibrano vibrazioni che faccia nuva la ranilla e fegge che i legni non so mica tocca se era sbattolata vi resta quantunque i legni che so tocchi da macchina allora qui un be inunda so vibrazioni e che faccia tutte se ranille che so scollate e so recuperate non to da più a l'esempio di un moscato è difficile ascoltarlo dunque regolare le vibrazioni della macchina e qui le vibrazioni sono forti e vedo che la vignia non tocca e posso chittare la macchina che hai una sicurità di vendemmia una che se non c'erano le macchine non troverai un moscato per poi vendemmia tutte le vignie che venivano dunque c'è già un primo fatto dopo c'è il nuovo tempo che si c'è un tempo cadendo l'acqua mica l'acqua la macchina anche se lo più appena boi gore o aspetti una mezz'ora perché lascio appena ma non resti mica allora che con l'umi 50 tera fa oggi senza la macchina non beco manco come tu e poi va quest'anno va questa che tu bega l'uva è bella è anche più bella che hanno quella che tu bega qui è cacarillo è un'uva che è bene ad ausida e che abbiamo messo noi in un ordo soprattutto per far così ma basta che tu venga è bellissima è base matura può aspettare qualche giorno perché puoi voler andare appena torna qualche grado allora con questo c'è maniera di dastare l'uva prima dasti aranella e poi dasti di nu aranella dice so che luce come agita come zucchero a poco presso e dopo quando tu dasti così è sicura che senti meglio come l'euto sugo se c'è l'agilità se c'è l'agilità se c'è l'agilità si misura o la senti tastando così la senti ma si misura per esempio giusto la misurata ma comunque quando tu la tasti così sai a poco presto dove torna sicqua perché l'equilibrio di una caspa c'è il zucchero e l'agilità e se tu vuoi acquistare la sorveglia perché il zucchero colla ma manchiamo appena l'agilità tu vuoi dunque ce l'entra abbastanza presto perché più tempo passa più l'agilità dai minui la vendemmia nel 2014 c'è adesso una bella vendemmia perché abbiamo avuto l'acqua terza abbiamo avuto l'acqua di unghia abbiamo avuto l'acqua di luglio e sai che faccio avere la vigna quantunque appena l'acqua di luglio quando non soffre mica di siccina quantunque l'uva si porta meglio 7000 manchiamo il vino avevi che oggi tutto il mondo cerca il vino il vino corso in principio hai se conosciuto gli è domandato allora non parliamo mica di un coreano che ha preso il vino corso ma quantunque oggi il vino corso si è fatto una rinomina so che faccio che è domandato e ne manchiamo la vigna se tu voli c'è pure un conto e noi so che noi abbiamo con la Europa la vigna è sempre stata così quando tutto si passa male restano quelli che facciano i vigna e stanno a fare la vigna dopo tutti quelli che sono giunti perché si quando andavano i soldi se ne sono andati se ne vuole speculavori allora se tu voli può essere che la nuova misura che la dobbiamo pagare questa perché ormai la vigna sarà sempre in mano a quelli che facciano la vigna i baggerossi dove vogliono? i baggerossi noi perché non siamo mica abbastanza su dunque sarà noi di buono perché abbiamo sempre 2015 per bene se non vorremmo buono se non vorremmo buono mica quante tu voli ma poi buono 7 l'anno dunque finalmente 2015 a parte quest'anno che è bene le cose hanno cambiato ecco scalano queste macchine ma non si può mica andare in l'uomo con questi materiali no ci sono di l'uomo che non si può andare ma c'è capire che non si può fare un progresso di tecnica a farlo ci può mica riposare ti dico ci andrà sempre ma tutto in avendo la mente la qualità ma che ha cambiato la macchina che ha cambiato chi puoi lavorare la notte non 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 un dobro a sconfinire perché noi come avevamo noi avevamo una quindicina di persone l'ora quindici giorni 20 giorni ma quelli che dano centinaia di vigne capisco che li possano passare c'è la manuovra una trovi quasi più e poi c'è trovato una manuovra capace competente che sappia valla fare dunque qui nei betai noi non ci vorremmo manco nè ma quelli che abbono va perché no perché no perché oggi è un mese un altro e sai se tu assaggi i vini colti lui colti a macchina vendimia o colti a manna nella stessa regione se tu assaggi alla ciega ci sarà poca differenza ma io fin tanto bosse avrà sempre la mano perché c'è un'altra maniera di scegliere lui c'è una maniera di fare fare e poi la cultura c'è una forma d'alegria e di gioia durante vendimia esattamente ma allora vendimia oggi non è più senso in i tempi non siamo più di se sa eh non è più nei tempi si faccia a scambio una un'operata l'operata tu andava lui maturiamo più presto che non altro ma oggi un po' più fanno fare così oggi tutto il mondo si obbliga ad accogliere allora sai oggi fa i prelevamenti che lui non sia troppo maduro cioè quasi allora giusto il gioco non sia mica bene troppo lontano no no perché se tu vuoi la qualità c'è non nessun senso gusti cioè è professionale cioè mica oggi non c'è più piazza per l'amadorismo nella viticoltura perché se tu non puoi più con i mercati incontinenti un puoi più fanno import che parliamo di i vini oggi che oggi il vino corso come va la salute va bene va male come si deve il vino corso si porta via si porta via come tutti i vini di regione di qualità tutti i vini di regione di qualità c'è l'odorismo forse che aiuta più che in altre regioni è meglio che mica perché quando hai l'odorismo in corso che vengono comprati vino in corso i giovani corso non sono mica convinti per far conoscere il vino al di là è facile ma sai la crisi c'è il continente c'è qui c'è un po' lappertutto c'è la moise non c'è mica dici c'è un centro del mondo c'è andato poi il vino fa conoscere ma la qualità è buona e i prezzi dicono il vino corso caro no sai quando una mercanzia è buona quando tu beli la maniera che tu lavai è mica caro perché dice caro continente ma i vini prodotti nelle stesse condizioni che noi in Corsica sono assai più cari che i nostri hanno una renomina forza più importante ma prodotti nelle stesse condizioni di rendimento di travagli adere tutto sono più cari che noi hai capito se tu i barragonelli con i vini che sono fatti in piazza di Vordò che ognuno qui ha 4 euro a Uttia è capito ma non sono mica i Vordò questi perché i veri vordò i bachicari i veri cottodironi i bachicari e capito che dopo c'è tutto sai c'è il negozio c'è tutti i vini che sono mescoliati sono giusto a punto un po' queste campagne non c'è la mia bella vino lo cerchio che hanno difficoltà a vendere le nuove no è bella che è più difficile perché quando tu vai in un ristorante capito che facci attenti c'è sempre uno con bella amica ma sai i simuladini più c'è uno in un paese va qualcosa e più si muove i cudi e poi per essere più seri vino e urbane sono cose della nostra cultura della nostra cristianità dunque si può mica fare così è capito che la buza non ti vedi i giorni che si tombano in vittura con l'alcol e altri affari questo tanto sono pericoli già fa caso con tu allora hai compito la barola di un pastore che mi ha detto qualche giorno noi tempi facevano le case non le pedre e tenivano le terbi coltivate oggi facendo il contrario questo è un pastore come nei pochi di pastore quasi tutti che hanno buon senso perciò perché qui noi siamo riusciuti a fare questa vignoble facendo che non si può più facile fare senza certe condizioni facendo che oggi la vena in tutti i casi vignoble di patrimonio 94-5 comune aggiungi tutti bene sarà sempre sicura a vedere perché oggi è difficile vedere per piantare i vigni sperano sempre a vendere per costruire per essere ricchi cose ricchezza ricchezza non è ammettualizzata per l'importanza dell'autobortavoglio la ricchezza quando ti giungi in casa la sera ciò che ha giuvato oggi ciò che lasciamo violi e questa è la ricchezza politico le eliti sono conscienti di questo problema hanno conto con maestria i due terreni qui l'abbiamo vata io penso che all'ora attuale con ciò che lavaggio di maria di giudicelli alla san via di cosa se riesci a farlo sarà un'affermazione perché c'è un pericolo c'è un pericolo che il gimento che c'è più sopra e dopo quando tu facci le case non le rompi più non le sciapri più per piantare la vigna c'è da pensare che l'altro non ci hanno mica sempre a mangiare ogni anno c'è un pericolo ma con noi esattamente siamo una società di servizio consumiamo consumiamo vengono quasi tutti al di fuori e qui non si può fare più ci sarebbe forse che un giorno si può campare e non tutti che facciano una sacchettura non abbastanza perché quando c'è la roba una la qualità si vende sempre bene io ma questa pazza va a casa ad un paese stanno a casa dipende lì ora tocca l'uomo politico come l'abbiamo fatto qui nella regione abbiamo abbiato le nostre responsabilità non si vorrà più fare casa non si vuole come lo si faccia nei tempi nei tempi mi diceva sto facendo le montagne non te i petri e lasciavano la terra per l'agricoltura oggi sarebbe forse più esempio i nostri vecchi perché non si può arrivare in d'arredo no dopo una volta che ti hai fatto le casali in un luogo di qualità per fare la vigna non lo rompi più la casale allora in 20 seconde oggi o dove è come è io ho confianza perché a gioventù che viene oggi qui a lavorare non tra queste vigne un bene amico non ti una scelta una scelta vuole campare e ti dico con rispetto all'ambiente sai la gioventù da qua i nostri violi sono più rispettosi all'ambiente che noi noi li muoviamo quasi un po per accennare e li avvalgono perché hanno rivoli tutto e bene cosa si passa altrò e conto ti ringrazio di stavare l'accelerata e per tutto il lavoro che faccio per i nostri vincitori ti ringrazio ecco se ne sapete appena più vignacorsa la prossima saluto a tutti di vincitori e Grazie a tutti.